Ok allora scusate è caduta la linea, qui naturalmente ci sono migliaia di persone per cui non so quanto la rete cellulare reggerà, io comunque provo ad andare avanti, cammino un po', vi faccio vedere quanta gente c'è e come potete vedere l'età media è bassissima, c'è anche qualche adulto, c'è anche qualche anziano ma l'età media è decisamente... ...sono appunto studenti che hanno deciso di non scuola e venire qui in piazza. Vi faccio vedere quanta gente c'è, adesso naturalmente la questione è sempre la solita, capire che cosa diranno i telegiornali e capire il movimento 1 delle 5 stelle oltre all'acqua per punire gli inquinatori. Sapete perfettamente che abbiamo alzato di 30 volte i canoni di estrazione e abbiamo posto una moratoria in 18 mesi e il ministero dovrà redigere una carta nazionale che andrà a definire in quale aree si può eventualmente trivellare e in quale aree no. Quindi a livello italiano e di petrolio la nostra posizione è chiara, siamo l'unico soggetto politico che ha predisposto un piano energia al 2050 dandoci già adesso per il 2050 un obiettivo 100% fonti di energia rinnovabile. Personalmente come sapete sto spingendo al massimo per far sì che le rinnovabili possano partecipare al mercato elettrico, e lo ripeto perché non fa mai male ripeterlo, in questo momento il mercato elettrico vede una riserva di caccia per le fonti termoelettriche perché stante la normativa che abbiamo ricevuto in eredità dai governi precedenti le fonti rinnovabili non possono ancora partecipare a tutti i servizi del mercato elettrico e quindi su questi servizi cosiddetti ancillari, primo fra tutti il dispacciamento, solo le termoelettriche partecipano. E siccome questo mercato elettrico del dispacciamento vede prezzi che sono 10, 20, 30 volte più elevati rispetto ai prezzi all'ingrosso è anche il mercato sulle quali le fossili fanno i loro profitti, più che sulla vendita tradizionale. ecco vedete la piazza è assolutamente gremita e lo ripeto per l'ennesima volta sono soprattutto giovani, giovani studenti che sono in sciopero. non so quanto sentiate di quello che sto dicendo perché naturalmente la confusione, il volume è chiaro, però le immagini non sono sicuramente chiare. i ragazzi hanno iniziato con un inno e le parole hanno iniziato con un tempo per perdere tempo. in effetti lì il problema principale è che non sono l'india, la cina, la cina, gli stati uniti, si può fare energie che poi andrà a vendere. un'economia ha bisogno sui quali quindi è un'economia perché tutti gli studi di fonti fossili e fonti in generale da un'economia lineare a tantissimi posti di lavoro in più ma è altrettanto chiaro che se ne creeranno di nuova transizione da fonti fossili a chimica a una chimica verde parliamo dell'efficio dobbiamo avere degli edifici dobbiamo avere degli edifici e in molti casi questo è possibile più sostenibile utilizzati nel settore transizione per la lavorazione degli abiti la maggioranza di questi 400 elementi tossici si può già rimpiazzare con elementi non tossici naturalmente ci vuole uno sforzo anche in questo caso mondiale non solo italiano quello che l'Italia può fare è guidare la locomotiva e vendere i propri prodotti e servizi puliti perché già il nostro made in Italy è molto voluto e molto riconosciuto e molto stimato all'estero se noi offriamo prodotti che non solo tecnologicamente sono avanzati ma sono anche con un bassissimo livello di emissioni di CO2 allora capite che saranno ancora più appetibili e poi c'è tutta la filiera del riciclaggio sulla quale c'è la possibilità di anche in questo caso decine di migliaia di posti di lavoro che si può riconoscire che si può riconoscire che si può riconoscire nel terro che si possono riciclare le plastiche in questi spazi di crescita di riciclaggio dobbiamo far pagare chi inquina l'europea che lo dice concretizzata c'è un mercato europeo delle emissioni è stato creato l'intento di incentivare la riduzione delle emissioni di CO2 purtroppo però chi ci ha governato negli anni passati in Europa ha conformato questo mercato in maniera assolutamente pessima perché ha regalato ed è proprio il verbo corretto ha regalato una quantità enorme di crediti di emissione cioè ha regalato a tutta una serie di fattispecie industriali la possibilità di emettere enormi quantità di anidride carbonica e quindi questo ha vanificato completamente questo strumento che alla fine si è rivelato un rimedio peggiore del male questo dobbiamo cercare di ricordarcene tra poco quando si voterà per un nuovo Parlamento europeo perché l'attuale Parlamento europeo sul quale ricordo il Movimento 5 Stelle è in minoranza e all'opposizione non ha assolutamente fatto quanto ci si doveva e poteva aspettare anche ieri vi ho spiegato che proprio tre giorni fa la Commissione europea ha votato un provvedimento con il quale definisce le future etichette le future etichette da mettere negli elettrodomestici e purtroppo non ha previsto l'obbligo di indicare se l'elettrodomestico è intelligente e quindi in grado di ricevere i segnali dai fornitori di energia per modulare il proprio consumo in base alla situazione della rete elettrica questa è una mancanza molto grave che impedirà ai futuri cittadini di risparmiare perché i fornitori di energia elettrica sono disposti a fare degli sconti a ciascuno di noi che dia la possibilità di modulare i propri elettrodomestici in base alla situazione nazionale della rete bene, io finisco un attimo il giro e poi me ne torno in ufficio perché anche oggi sto incontrando diverse aziende e a tutte ripeto che il Movimento 5 Stelle agirà sul fronte della fiscalità ambientale e quindi abbassando le tasse per le aziende più virtuose ed alzandole per quelle che invece inquinano di più credo che il senso della manifestazione di oggi lo abbiate capito abbondantemente io cerco di evitare di calpestare degli striscioni sul palco improvvisato vedete che si susseguono gli interventi dei rappresentanti degli studenti a cui veramente auguro il miglior lavoro possibile e auguro di non fermarsi oggi di non fermarsi con questa manifestazione assolutamente meritevole ma non ci si deve fermare qui quindi protestare è giusto poi bisogna passare all'azione ai fatti concreti quindi ricordo ancora una volta che è possibile acquistare elettricità 100% rinnovabile senza spendere un centesimo in più senza toccare il contatore senza toccare nulla di nulla è possibile acquistare elettricità 100% rinnovabile senza, ripeto, toccare il contatore senza fare nulla di nulla di nulla e questo già di per sé farebbe un'enorme differenza ricordo che negli spostamenti la Danimarca che è un paese decisamente più freddo del nostro il 60% degli spostamenti viene fatto in bicicletta e quindi noi come Movimento ci stiamo impegnando a sviluppare al massimo le piste ciclabili che non sono un tornare indietro ma sono un integrare la mobilità con un mezzo che ha una serie di vantaggi e tra questi abbiamo inserito anche la possibilità di utilizzare i microveicoli elettrici dai monopattini agli altri microveicoli elettrici cosa che attualmente il codice della strada impedisce ma noi abbiamo posto la possibilità di cambiare con la legge di bilancio poi naturalmente c'è tutto il tema della raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti ricordo ancora una volta che noi abbiamo premuto e stiamo premendo per non utilizzare gli inceneritori ed è quello che dice l'Unione Europea perché l'Unione Europea mette gli inceneritori all'ultimo posto anzi al penultimo posto all'ultimo posto della discarica l'Unione Europea ci dice chiaramente dobbiamo prevenire la produzione di rifiuti e quindi ci vuole una riprogettazione degli imballaggi e di tutto il materiale plastico e io questa mattina ero a colloquio proprio un'ora fa con Union Plast quindi l'unione degli industriali italiani che lavorano la plastica gomma e plastica quindi ci vuole una riprogettazione degli imballaggi ci vuole un aumento della percentuale di raccolta differenziata una tassazione agevolata per chi fa riutilizzo, riuso e riparazione per esempio in Svezia hanno un'IVA agevolata per chi fa riparazione di elettrodomestici e di qualsiasi altro materiale ci vuole appunto un riutilizzo e un'economia circolare e noi stiamo seguendo assolutamente quello che ci dice l'Unione Europea in questo tema l'Unione Europea che sul fronte del riciclaggio ha delle intenzioni molto buone sul fronte delle rinnovabili si sta comportando in maniera di fronte perché da un lato incentiva l'autoconsumo incentiva le comunità energetiche incentiva le fonti rinnovabili dall'altra però dice che dobbiamo costruire nuove infrastrutture a gas secondo noi invece il gas è già sufficientemente infrastrutturato è già sufficientemente incentivato infatti la tassazione la fiscalità sul gas è molto più bassa rispetto agli altri combustibili fossili e anche a livello infrastrutturale quello che abbiamo è già sufficiente in particolare in Italia in cui i rigassificatori lavorano molto al di sotto di quelle che sono le loro potenzialità quindi il nostro obiettivo sarà comunque quello di spingere sulle fonti rinnovabili sull'efficienza energetica sulla gestione della domanda lo ribadisco perché ci vorranno anni per abituarsi ma un domani sarà possibile dare la propria autoelettrica e i propri elettrodomestici in gestione remota controllata ai fornitori di elettricità in maniera che questi possano dall'auto elettrica prelevare corrente quando ce n'è bisogno e dai nostri elettrodomestici li possono modulare anche in questo caso quando ce n'è bisogno e tutto questo sarà remunerato ovviamente tramite uno sconto ovviamente tramite uno sconto tanto è vero che già adesso gli studi ci dicono che per quanto riguarda la ricarica delle auto elettriche sarà possibile ricaricarle praticamente a gratis tramite appunto la gestione remotizzata del pacco batteria perché ricordiamo le auto elettriche sono un pacco batterie a quattro ruote e già attualmente è stata sviluppata proprio da un'azienda italiana la tecnologia che ne permette la bidirezionalità quindi l'auto elettrica non è solo non è solo un meccanismo che prende energia dalla rete ma è anche un meccanismo che cede energia alla rete quando ce n'è bisogno bene se non ho capito male hanno finito hanno salutato finisco io perché l'argomento è lungo lo stiamo trattando da anni e continueremo a trattarlo adesso torno in ufficio e continuo a incontrare aziende che naturalmente è il ruolo che mi spetta stando in commissione industria quindi grazie che mi ha seguito spero ci sia capito qualcosa io ovviamente ho provato a parlare vicino all'auricolare ma mi rendo conto che la confusione è tanta vi lascio con queste immagini della piazza piena il movimento c'è e c'è tutti i giorni nelle commissioni nel Parlamento italiano ed europeo e continuiamo a batterci proprio per le stesse cose per cui si stanno battendo questi ragazzi per il loro futuro quindi meno indifferenza e più differenziata grazie buona giornata a tutti grazie 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 a tutti